ok ragazzi andiamo subito un altro gameplay un'altra vittoria significherebbe la promozione in divisione 4 ragazzi sì un'altra vittoria significa promozione in divisione 4 due secondi in posto delle cose al pc arrivo ok ragazzi eccomi qui perfetto dicevo che un'altra vittoria indicherebbe la promozione in divisione 4 e non sarebbe male non sarebbe male ecco vediamo un po come come andrà ragazzi io cerco di impegnarmi sto giocando molto bene ma spero di arrivare in divisione 1 per adesso facciamo un passo per volta e vediamo un po di arrivare dove bisogna arrivare chi è questo chi è questo da dove esci fuori da dove spunti fuori cazzo allora vediamo poi un po vediamo chi è ok allora stadio giochiamo di notte dove giochiamo cambiamo un po giochiamo giochiamo qui va notte estate sereno perfetto le divise van bene così tipo di pallone vediamo un po tipo di pallone vediamo un po e piazziamo questo allora divisa ok schema di gioco un attimo solo ragazzi voi sapete che io ormai devo fare il mio cambio no quindi ok e la calmo ok ci siamo perfetto possiamo iniziare e questa partita se la vinco si va in divisione 4 quindi staremo a vedere io cercherò di impegnarmi così siamo in divisione 4 poi mi prenderò 1 2 giorni magari qualche giorno di pausa da pes per allenare l'altro allenatore e niente in modo che ha una difesa un po più decisa diciamo e lo proveremo insomma in una partita lo proveremo vediamo un po vediamo però ti va arrivare a ts 99 altrimenti non c'è senso quindi è lì la strada che sarà lunga e dura andiamo andiamo sul bradone inizia in grande stile vai lì c'è nemar già pronto scalpitante ottimo ai 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 e no bradone vabbè dai mi sei piaciuto con questa partenza un po ballerina ok mi sei piaciuto bradone mi sei veramente piaciuto andiamo andiamo e andiamo su devo giocare con più calma con molta calma tanto poi risultati arrivano un po perfetto vai e turelli che si fa anticipare e la calma grande avevo capito avevo capito l'intenzione dell'avversario e se l'è giocata male questa palla se l'è giocata veramente ma veramente male si vai tiro da lì con cr7 ragazzi ci tiro eh senza problemi non ho problemi io tiro da fuori aria come se non ci fosse un domani voi lo sapete quindi ok vai robin e vabbè no ma dai calma calma ragazzi calma calma su non era fuori gioco ottimo così grande nemar e 1 a 0 1 a 0 e andiamo e andiamo nemar che esulta con la maglia del pescara così mi piaci così mi piaci nemar ok calmi calmi tutti ragazzi è solo un gol è solo un gol dobbiamo farne altri dobbiamo farne altri per cantare vittoria non mi sembra un avversario molto temibile questo anzi ok veramente gioca meglio mio fratello vi dico la verità ok vabbè comunque comunque vai vai così ramos che recupero ragazzi che recupero signori possiamo farcela attenzione no noier di testa ragazzi è il top eh noier di testa è il top va bene noi no aspetta aspetta ma cos'è vedete perché io devo cambiare allenatore la difesa è ballerina è ballerina qui la difesa ok perfetto che facciamo che facciamo ottimo così bradone vai andiamo andiamo calma calma bradone ok ok calma con calma con calma pensiamo ad asfaltare l'avversario studiamo le mosse poi infliggiamo più danno possibile più gol si possono fare e meglio è andiamo ma dai ottimo così ulala che dite ragazzi ci tiro ma sì dai tiriamoci tiriamoci non c'è problema non c'è problema io tiro da tutte le parti tiro da tutte le parti andiamo andiamo e la calma calma no no così non va bene così non va affatto bene ragazzi dobbiamo giocare più aggressivi più precisi più stile ci vuole più stile qui va bene dai ora ho bene io vedo che stai dormendo su questa partita cazzo stai dormendo non va affatto bene vedi un po di fare capisco che hai giocato prima benissimo nelle partite prima però ora devi comunque anche riprendere il tuo ritmo da alieno che comunque hai no ecco insomma insomma ritmo da alieno ma oggi non molto e devo dire oggi non molto ma anche cr7 batte la piacca quindi calmi 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 vai tur e aspetta aspetta vai ramos dalla noi e dalla noi e r su via via mi ridai sta palla mi ridai la palla no eh bene ok vai per cr7 noi fuori gioco fuori gioco fuori gioco è fuori gioco va bene dai però dai ok perfetto 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 ora ragazzi dobbiamo accelerare cazzo dobbiamo giocare ci vuole un secondo e un terzo gol per fargli perdere la voglia di giocare con altri due gol questo qui non gioca più non gioca più bisogna fargli eh però se non se non mi giocate bene qui gol non li facciamo ragazzi eh dai niente voglio vedere al secondo tempo cosa fate voglio vedere voglio proprio vedere sì sì ecco qua ho detto io sapevo che stavo per subire il gol ragazzi lo sapevo perché non stanno giocando non stanno giocando non stanno giocando la mia squadra e la squadra non vuole giocare non vuole giocare su questa partita inutile dai vediamo al secondo tempo se ne uscirà fuori qualcosa di positivo sapevo che subito il pareggio lo sapevo io che avrei subito il pareggio lo sapevo era nell'aria era nell'aria ok primo tempo insomma quasi equilibrato da rifare dai andiamo andiamo è un po' che giocatoria questo che non ho visto benzemà messi insomma una bella squadra dai nemar tiago roben bisogna stare attenti bisogna stare attenti dai dobbiamo giocarcela bene secondo tempo devo rientrare con tutta un'altra mentalità cazzo andiamo su aggressivo brado questo qui se gli facciamo altri due gol getta la spugna ve lo dico io ve lo dico io dai acceleriamo dobbiamo accelerare qui dai i ritmi di gioco devono essere indiavolati su ogni pallone dobbiamo eserci noi cazzo dai e andiamo e andiamo cazzo dai così così su mi deve passare la voglia di giocare così via andiamo il ritmo lo voglio indiavolato lo voglio indiavolato punizione cazzo punizione penalti punizione su via fallo su nemar cazzo castigalo con nemar brado castigalo che gli passa la voglia di giocare cazzo falli passare la voglia di giocare no ho caricato poco caricato poco ho caricato poco vabbè dai bisogna fargli passare la voglia di giocare a questo qui su voglio un ritmo indiavolato cazzo voglio la partita che si va alla vittoria dobbiamo andare in divisione 4 con questo gameplay dai dai rinvia sta palla rinvia sta palla su voglio un ritmo indiavolato ciccio bello vabbè fuori gioco di robben fuori gioco di robben ma va bene dai va bene voglio il ritmo brado in campo cazzo non voglio femminuccia in campo voglio gli uomini voglio farli sentire qui cazzo dobbiamo giocare eh proprio senza pietà senza pietà cazzo guarda lì guarda quello lì guarda vital lì era vital no lam che si è fermato lì vabbè si disinteressa del pallone come se vabbè ha visto non so cosa non so cosa ha visto vabbè ma vogliamo allora si sta avvicinando troppo in porta si sta avvicinando troppo eh vogliamo riprenderci quello che è nostro o no si o no vuoi fare questo cazzo di gol e sono tre e vai lo vuoi fare robben e andiamo e andiamo deve gettare la spugna l'avversario è lui che deve gettare la spugna su andiamo è inutile che metti in pausa non ti salvi ciccio non ti salvi ciccio vai forse fresche in campo dentro modric e andiamo dentro modric andiamo dai qui la partita della promozione partita per la promozione ragazzi vediamo un po cosa ne esce fuori vediamo cosa ne esce fuori e non mi bastano voglio fare altri gol non mi bastano ne voglio fare ancora ne voglio ancora ok vai dalla cr7 no ma che passaggio hai fatto robben eh ma cosa combini cosa combini vai bella così bradone perfetto stiamo giocando bene è un secondo tempo da favola questo è un secondo tempo da favola andiamo andiamo un secondo tempo da favola sì così perfetto aspettalo aspettalo sempre aspettalo sempre aspettalo alle corde poi lo atterri cazzo eh no sbagliato sbagliato va bene va bene così tranquilli ragazzi va benissimo va benissimo non c'è problema non c'è affatto problema qui ok voglio 11 leoni in campo cazzo ne voglio 11 no 11 leoni voglio in campo 11 leoni ma lei è macinghiara su ma è cr7 ok ok perfetto bisogna aggredirlo bisogna aggredirlo deve capire che non c'è storia deve capire che non c'è storia tra me e lui vai Pogba bravo bravo che hai tirato mi sei piaciuto mi sei piaciuto così così si fa Pogba così grande tutto dobbiamo essere un muro dobbiamo fare il muro non deve passare non deve passare in nessun modo in nessun modo vedete ragazzi così bisogna fargli passare la voglia bisogna demoralizzarlo ok perfetto Bradone perfetto e andiamo così andiamo così su neanche faccio il cambio dei giocatori per il momento non serve non serve non serve perfetto su vai grande cr7 avversario ko avversario ko ragazzi avversario ko e andiamo e andiamo avversario ko tecnico e ora bisogna inferire bisogna inferire ragazzi bisogna inferire sì come non mai così no robin sfiora ok va bene va benissimo calcio champagne nel secondo tempo ragazzi dal vostro diabo ex ex calcio champagne vai andiamo in secondo tempo tutto di un altro livello siamo rientrati con un'altra mentalità eh sì eh sì con la mentalità ti faccio il culo ecco questa è la mentalità giusta vai 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 ram stacca no non stacca di testa vabbè ottimo ottimo questi sono recuperi questi sì che sono recuperi non ce la fa più l'avversario non ce la fa più non ce la fa più l'avversario non ce la fa più e così deve essere così deve essere andiamo 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 ha fatto un tiro in porta dopo che l'ho fatto 50 io quattro minuti di recupero giusto il tempo per farti un altro gol ciccio bello su via demoralizzato l'avversario ragazzi non ce la fa più guardate guardatelo è cotto è cotto sta per gettare la spugna è cotto è cotto ragazzi è cotto è cotto a puntino il ragazzo eh sì è cotto a puntino devo dire che è veramente cotto a puntino eh sì andiamo perfetto ragazzi divisione 4 siamo in divisione 4 cazzo siamo in divisione 4 sono andato benissimo sono andato benissimo e andiamo e andiamo a testa alta e meritatamente in divisione 4 andiamo meritatamente in divisione 4 cazzo andiamo su via non mi importa che non salgo di livello ottimo così vai bradone mi sei piaciuto grande stile va bene così divisione 4 è nostra ragazzi ci siamo ci siamo iniziamo a salire di divisioni non è semplice ora ad arrivare in divisione 3 ma bisogna provarci adesso siamo in divisione 4 pensiamo al resto pensiamo ad andare avanti pensiamo a fare il nostro gioco grande bradone è sempre così vai oh vi faccio godere la promozione in divisione 4 ragazzi eh ve la faccio godere su questo gameplay ve la faccio godere qui subito subito vai stagione successiva meritatamente il vostro brado va in divisione 4 eccolo qui ottimo così grande divisione 4 meritata arrivo ragazzi arrivo sto arrivando sto arrivando più brado che mai più brado che mai ok vediamo un po' perfetto vai anche recupero l'esistenza singolo contro un cartellino ottimo ci sentiremo con i prossimi gameplay un saluto dal vostro diabotex ragazzi siamo in divisione 4 va bene ciao a tutti e alla prossima